E' terminata da poco la conferenza stampa anticipata alla sabato del tecnico Alberto Colombo in vista del posticipo di lunedì, fischio d'inizio ore 20 e 30 tra Turris e Pescara. Oggi non si sono allenati dopo il forfè di ieri in amichevole Jacopo De Zogus e Alessandro Crescenzi, sarà fondamentale la rifinitura di domani ma sono in forte dubbio per la trasferta. Per il resto tutti a disposizione, messaggio chiaro quello mandato dal tecnico Colombo in conferenza stampa, dovrò fare delle scelte, giocherà chi è al 100% dal punto di vista fisico. E poi sulla Turris è vero è la peggior difesa del campionato ma hanno un attacco fortissimo. Andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Alberto Colombo. Partiamo dal fatto che sia De Zogus che Crescenzi oggi non hanno partecipato alla seduta, poi è chiaro che abbiamo un altro giorno e speriamo di poterli recuperare. Quindi anche lì teniamo tutto in stand by e alcune decisioni, però è chiaro che oggi come oggi loro hanno qualche possibilità in meno di partecipare alla trasferta. Poi il resto della settimana è andata molto molto bene, quindi la squadra ha lavorato, ha lavorato bene, ha lavorato tanto. È conscia dell'importanza della partita perché continuare con questo ritmo non è facile ma è altamente stimolante. Quindi vogliamo provare a dare continuità a questi risultati nonostante appunto di fronte avremo una squadra arrabbiata che vorrà dare una svolta alla propria stagione o comunque svoltare in senso positivo anche perché comunque le aspettative credo fossero diverse e le potenzialità comunque le permettono di essere una squadra che venga da tutti denominata come una squadra importante. Allora mister, io voglio prima di fare una domanda sul Pescara, voglio proprio ripartire da un dato numerico che è eloquente del dato in Cristo. Loro sono con 25 gol subiti la peggior difesa di tutto il campionato e se non erro con 13 sono anche la peggior difesa in casa del campionato. È chiaro che per un Pescara che difende molto bene e sa fare altrettanto bene la transizione questo è un dato che non può essere sottovalutato. No, no, ma è chiaro che i dati come abbiamo già detto altre volte sono fondamentali, importanti, spesso dicono la verità, a volte non dicono tutto perché magari possono essere decontestualizzate in una partita. Quindi è chiaro che ogni partita ha, come diciamo sempre, ha una storia a sé e allora dobbiamo essere bravi a far sì che questi numeri poi allora riparlino nuovamente in quel senso. Però per farlo è chiaro che dobbiamo fare una grande prestazione di sostanza, molto attenta in ogni circostanza. Soprattutto credo che nella fase difensiva vada fatta e prestata grande attenzione e quando parlo di fase difensiva non parlo esclusivamente della linea difensiva. Anzi, io mi riferisco all'aspetto globale della squadra che debba difendere in un determinato modo perché poi probabilmente se lo dovessimo fare con un'alta qualità allora poi potremo avere dei giovamenti nelle transizioni o nella fase offensiva. È chiaro che se De Zogus non dovesse esserci o comunque anche se dovesse esserci ha saltato buona parte della settimana per come sono abituato io a scegliere difficilmente può partire dall'inizio. E lì si apre un ballottaggio anche con lo stesso Tupta che comunque ieri ha fatto una buona partita al di là delle reti che contano secondo me fino ad un certo punto. Ma sapendo che nelle prestazioni precedenti magari da esterno non ha particolarmente brillato per caratteristiche però magari per spirito di rivalsa o carattere può darci una mano. Quindi sicuramente abbiamo ancora un giorno, ci prendiamo questo giorno per decidere. Però è chiaro che noi non vogliamo perdere l'identità al di là di quello che possa essere la scelta. E su questo credo che sia molto più probabile uno fra colai e delle monache. Grazie. 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 Grazie.